Vi faccio vedere questo chalet che ho fatto con il cake carribe, un misto di cotone e microfibra che ho preso da filati romance. Questo è il risultato che ho ottenuto con un cake utilizzando un cake, dall'inizio alla fine mi è avanzato un pochino di giallo ancora, che ci potrò fare qualcosa di abbinato, farò magari un portacellulare. E ho fatto questo chalet utilizzando, vedete, diversi tipi di lavorazione. Ognuno di questi modelli, che poi vi farò vedere sia nel tutorial video, che sul mio sito troverete tutto il riepilogo delle varie lavorazioni e gli schemi, ognuno di questi schemi qua ovviamente può essere utilizzato per lavorare tutto lo chalet, non importa farlo così a strisce come l'ho fatto io. Io l'ho fatto perché mi piaceva proprio questo modo di fare, cioè intervallare diversi schemi con delle maglie alte che li separino, quindi vengono queste bellissime strisce, e che valorizza moltissimo la sfumatura di questi bellissimi cake. Ho utilizzato nella parte alta, qua su, questo foglioline, vedete questo è il motivo, sono queste foglioline qua. E anche questo ovviamente può essere fatto tutto lo schiale così, viene molto bello anche in questo modo. Io l'ho utilizzato per la parte iniziale. Poi ho fatto, che è una parte un pochino più piena, qua su al collo. Poi ho fatto questo, che è un motivo che a me piace moltissimo, che lo uso spesso, ne ho già fatto un altro e ho utilizzato sempre questo. Perché poi vedete queste specie di stelline qua, è molto semplice da fare, è veramente bella, a me piace tantissimo. Poi sembra anche un pochino il rilievo, dà un bellissimo effetto nella lavorazione. Poi ho fatto questa striscia con questi cuoricini, questi sono dei cuori, e anche questo potete fare benissimo. Viene molto bello uno schiale, completamente con questi cuoricini qua. Vedete, viene molto bello. Poi qui ho fatto semplicemente un giro con delle catenelle, proprio per dare questo effetto un pochino a rete, che è molto bello, che dà aria allo schiale. E ho finito con questo punto qua ad ananas. Vedete, questo è il punto ad ananas, che anche questo è molto bello, perché dà un effetto, soprattutto quando viene indossato, questo effetto un pochino, vedete, con queste catenelle che si intrecciano, è molto bello, insomma, quando si utilizza questo schiale qui. Questo tipo di schiale, io l'ho lavorato con un uncinetto, anche un pochino più grosso del normale. Quindi questo qui, essendo così bello, leggero, voi potete benissimo metterlo proprio così, come foulard, e portarlo appunto, quando uscite. È leggero, è un bel cotone, molto morbido, quindi non fa sudare, è veramente bello. E potete utilizzarlo anche così a sciarpina, e poi, eventualmente, se vi la sera fa un pochino più fresco, potete aprirlo e utilizzarlo come schiale. A me piace tanto. Io ne ho un altro, che vi faccio vedere, che l'ho fatto con un altro colore, vedete, sempre, anche questo è molto bello. È un'altra sfumatura. E anche questo ha altri tipi di motivi, che, tra l'altro, ho fatto in tutorial, perché ci ho fatto una giacchina con questi motivi qua. Vedete, è molto bello anche questo. Questa è un'altra sfumatura. E, appunto, questo ovviamente è a gusti vostri. Questo qui è un pochino più sobrio, diciamo, con queste sfumature dall'azzurro al verde. E questo l'ho voluto fare bello colorato, proprio per l'estate, per poter fare, per poter avere una scialle, proprio, di questi bei colori allegri e freschi. Inoltre, nello schema che metterò sul mio sito, varierò la punta. Perché la punta di questo motivo, ho sbagliato a fare il calcolo degli aumenti, e è venuta, vedete, leggermente troppo grande e un pochino piena, pasticciata, diciamo. Quindi, la modificherò alla punta. Quindi, questa qui, nello schema, sarà leggermente diversa. Se seguite il video, potete tranquillamente farla con il mio video, non è brutta. Però, vedete, non è bella pulita, come vorrei. Estendendola, rimane un pochino, vedete, è un po' più piena, diciamo, arricciola un po' la punta. E' bello, l'effetto comunque è molto bello, comunque non è che asciuta niente. Quindi, se seguite il video, seguite pure il video come lo faccio io. Se guardate lo schema, troverete che la punta è leggermente diversa. Quindi, soltanto il modo in cui si aumenta sulla punta. Per il resto, sarà tutto uguale. Così, come ve lo spiego, troverete quindi anche lo schema. Allora, dopo il progetto del poncio che ho fatto con il filato con le paillette, ho deciso di fare anche un altro progetto con quest'altro filato, perché ero curiosa di provarlo, dall'ISA di filatiromanze.com. Trovate il link alla fine di questo video, se volete prendere anche voi questo stesso filato per fare questo scialle che adesso vi andrò a fare. E' molto morbido, infatti mi piace moltissimo proprio perché è molto morbido, quindi sono convinta che ci verrà un bellissimo scialle. Questo filato, tra l'altro, mi sembra molto adatto anche a fare lavorazioni da bambini. Ho visto che ha anche dei colori molto chiari, tenui, sul rosa e all'azzurro, che per bambini sono molto carini, per fare anche una giacchina, qualcosa di sfumato, che viene molto bene. Vedrò se riesco a fare un tutorial anche per qualcosa da bambini. Allora, è una composizione del 50% cotone e 50% microfibra, quindi l'ideale perché rimane un filato bello morbido e leggero che non restringerà e quindi perfetto per le nostre lavorazioni. Allora, questo è consigliato una lavorazione con un uncinetto del 3,5-4 o i ferri. Io ovviamente lo lavoro sempre con almeno mezzo numero in più, quindi io lo userò con un 4,5. Probabilmente si potrebbe fare anche con un 5, però non voglio rischiare adesso subito così di farlo troppo largo, eventualmente poi lo modificherò e vi farò vedere. Allora, adesso cercherò il codino al centro perché volevo iniziare proprio dall'azzurro. Ecco qua, questo così, vedete, l'ho riavvolto qua, ho levato una parte al centro di azzurro e l'ho riavvolto in modo da poter iniziare. Allora, ho fatto uno schema, io farò nel mio poncho, io userò diversi motivi, farò tutte le strisce di diversi motivi. Allora, ognuno di questi motivi ovviamente può essere utilizzato per fare tutto lo shawl, quindi se a voi piace uno di questi motivi potete semplicemente continuare ad utilizzarlo per tutto il motivo, tutto lo shawl. Vedete, si lavora partendo dal centro, questo è solo metà schema, si ripeterà poi di qua e di là dallo schema e quindi io farò, partirò da questo. Questo schema qui lo fotograferò, li ho disegnati io, quindi non sono bellissimi, però penso che siano abbastanza chiari e li metterò sulla mia pagina. Sul mia pagina trovate sia il link al sito Filati Romanze per poter ordinare questo filato, se vi interessa ordinare lo stesso filato. Metterò lo schema, un piccolo schema insomma per spiegarvi un pochino i punti e le foto di questo schema qua, in modo che possiate appunto farlo senza seguire tutto il video. Ok, quindi adesso iniziamo da questo qua. facciamo il nostro solito cappio che mettiamo sull'uncinetto e poi partiamo da qui con 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle chiuse con una maglia alta sopra la prima, quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e poi carico il filo, rientro nella prima di queste 6 catenelle e faccio una maglia alta 1 e 2, ecco qua, quindi questa è il nostro primo, l'inizio del nostro giro, la nostra prima maglia. adesso faccio tutto il giro, quindi ancora 3 catenelle e una maglia alta sempre chiusa nella prima per altre 3 volte quindi 1, 2, 3 catenelle, una maglia alta sempre rientrando qui nella prima catenella dove sono già rientrata poi ancora 1, 2, 3 catenelle e rientro attenzione a non girare il lavoro tenetevelo ben dritto sempre rientriamo qui nella stessa ancora 1, 2, 3 e rientriamo sempre qui questo è quello per salire più ancora 1, 2, 3, 4 maglie alte vedete e adesso ho questo primo il mio giro di partenza che è formato da due archetti di qua e due archetti di là il primo ovviamente è quello formato dalle 6 catenelle che adesso si vede un po' meno perché è il primo giro però questo è il giro formato dalle 6 catenelle ok, questo era il giro numero 1 adesso facciamo il giro numero 2 che partirà dal lato di qua quindi io però vi disegnerò solo il lato di sopra quello dove chiude perché si lavora comunque esattamente uguale quindi noi qui dove c'è la maglia alta che è quella di chiusura in realtà i giri pari faremo 1, 2, 3 catenelle 3 catenelle per salire al posto della maglia alta più altre 3 catenelle 1, 2 e 3 ecco qua, quindi 6 catenelle che sono questo in pratica dal giro 2 3 sostituiscono la maglia alta e 3 sono queste poi 3 maglie alte sopra la prima maglia alta quindi carichiamo il filo entriamo qui sopra questa maglia alta e facciamo una maglia alta riprendiamo il filo rientriamo e facciamo una seconda maglia alta la terza volta uguale rientriamo qua e facciamo la terza maglia alta ecco qua vedete 3 maglie alte sono qui in questa sopra questa maglia alta poi abbiamo ancora 3 maglie alte 1 3 catenelle 2 e 3 catenelle e una maglia alta sopra la maglia alta dopo vedete queste sono quelle di base dopo è più semplice da seguire lo schema però vedete semplice questa è quella centrale la metà diciamo del motivo il motivo è così vedete questo è il motivo queste maglie alte sono quelle che vanno in là e queste sono quelle che vanno in qua quindi il motivo si vede così e di qua si ripete quindi l'altra metà in realtà noi stiamo arrivando da questa parte siamo qui al centro quindi ancora 3 catenelle 1 2 3 quindi noi questo schema lo leggiamo così fino qui e poi da qui in là semplicemente torniamo indietro perché si lavora uguale quindi 3 catenelle poi qui questa è la maglia alta vedete successiva e ne faremo 3 maglie alte sopra quindi entriamo qui facciamo 1 2 e 3 maglie alte sopra questa maglia alta qua e poi finiamo con 3 catenelle e una maglia alta sull'ultima quindi 1 2 3 catenelle e una maglia alta sull'ultima e l'ultima vedete sono queste maglie alte che abbiamo fa queste catenelle che abbiamo fatto all'inizio del giro che sono 6 ok questa è la prima la seconda e la terza quindi io entro nella terza di queste 6 catenelle che avevo fatta all'inizio del giro che sono quelle che sostituiscono la maglia alta del lato ecco qua questo è il risultato vedete che otteniamo dopo il giro numero 2 questo è il centro questi sono i lati vedete e questo è quello che otteniamo ok quindi adesso poi io vi faccio vedere ancora un paio di giri poi ovviamente andate avanti da voi seguendo lo schema io vi faccio vedere come leggere lo schema più che altro quindi 3 catenelle giriamo il nostro lavoro e adesso siamo qui al giro numero 3 quindi 3 catenelle sostituiscano la prima maglia alta più le altre 3 catenelle che avremo sempre quindi ancora 3 poi abbiamo 2 maglie alte sopra la prima maglia alta una maglia alta sopra la seconda e 2 sopra la terza quindi carichiamo il filo queste sono le tre maglie alte sotto che dobbiamo lavorare quindi entriamo vedete qui sopra prendendo questa è la maglia alta vedete sotto questo è la maglia sopra di quella della maglia alta vedete questa è la maglia alta e questa è la sua maglia di chiusura quindi entriamo in questa e facciamo una maglia alta vedete sopra questa prima poi carichiamo nuovamente il filo e ne facciamo un'altra sempre qui dentro questa non vi preoccupate se si slargano un po le maglie è normale perché stiamo utilizzando un uncinetto più grosso io preferisco utilizzarli sempre un po più grandi di quelli consigliati perché il lavoro viene più morbido però ovviamente anche lì potete decidere voi come fare poi una sopra la seconda quindi vedete questa è quella che abbiamo appena lavorato vedete se tirate lo vedete bene e sempre questa formata da questa questa v formata da due magliettine sopra la seconda maglia alta è dove entriamo e qui ne facciamo una sola poi carichiamo nuovamente andiamo sopra la terza vedete questa è la terza maglia alta e questa è sempre la sua magliettina sopra e qui ne facciamo 2 1 e 2 ecco qua fatte le nostre cinque maglie alte vedete sopra le tre che sono queste cinque qua poi ancora 3 catenelle 1 2 3 catenelle e una maglia alta sopra questa qua che è quella centrale del motivo ecco vedete ecco qui quindi questa è la metà del lavoro e siamo a questo giro qua quindi questo è questo giro qua fatto proprio così ecco qui questo è il giro e sull'altra metà ripetiamo sempre questo schema quindi adesso rifacciamo 3 catenelle e poi rifaremo le maglie alte sopra quest'altre tre sopra quest'altra metà quindi questo che abbiamo appena fatto lo ripetiamo di qua ecco qua vedete io ho ripetuto quindi le mie cinque maglie alte queste poi avrò le ultime 3 catenelle e l'ultima che sarà vedete quando io finisco ho 3 catenelle una maglia alta sempre alla fine del giro quindi faccio le mie 3 catenelle e la maglia alta vedete contiamo sempre queste sono le 6 catenelle perché partiamo con 6 catenelle quindi dobbiamo contare 1 2 3 ed entriamo quindi nella terza catenella di queste 6 di avvio entriamo dentro che io l'ho mancata ecco qua fate attenzione ad entrare proprio dentro la maglia e lavoriamo la nostra maglia alta sopra questa terza catenella del giro di avvio ecco qua questo quindi è finito il nostro nuovo giro e così andiamo avanti vedete adesso io continuerò voi andate avanti da voi è semplice vedete io vi ho spiegato come leggerlo e è molto semplice ad esempio adesso il giro numero 4 dove vedete la maglia alta sostituitela con 3 catenelle perché vuol dire che stiamo partendo da quest'altro lato ma a voi non vi interessa sapere da quale lato tanto è uguale quindi 3 catenelle poi 3 catenelle che sono queste una maglia alta qui quando è così è nella stessa quindi questa ve la faccio vedere facciamo così quindi per partire facciamo le solite 3 catenelle che è la prima maglia alta poi le 3 catenelle per separare perché finiamo e iniziamo sempre così poi vedete qui c'è la maglia alta qui vuol dire nella prima catenella che abbiamo appena fatto e possiamo farla direttamente qui nella maglia alta di base dove abbiamo chiuso il giro precedente quindi entriamo sopra questa maglia alta qui dove abbiamo chiuso il giro nel giro precedente ecco qua questo è il nostro aumento che avremo su tutti su diversi giri insomma lo vedete quindi l'aumento è così poi le 3 catenelle e poi continuiamo quindi adesso lavoreremo sopra queste 5 perché adesso ne abbiamo 5 sono queste qui e facciamo vedete qui sulla prima due volte quindi carichiamo il filo vedete andiamo sempre a cercare la prima maglia che vedete sono queste v le maglie sono queste v qui sono le 5 maglie che lavoreremo vedete 1 2 3 4 e 5 queste cinque qui sono le cinque maglie sopra delle cinque maglie alte e quindi qui lavoreremo 2 maglie alte sopra la prima vi si esilargheranno mentre le lavorate se le lavorate soprattutto con un uncinetto un po più grande ma poi dopo torneranno a posto non vi preoccupate sarà bello comunque se vi piace un effetto un po più compatto fatelo con un uncinetto più piccolo io ripeto a me piacciono mi piace molto farle con uncinetto un pochino più grandi proprio perché dà più volume al lavoro quindi e lo alleggerisce molto e quindi continuiamo così quindi finiamo fino al giro numero 16 io l'ho fatto uno verde uno rosso proprio per distinguere qual è un giro e qual è l'altro è più semplice cercare di non sbagliare vedete quando uno verde però non c'è non è che dovete cambiare colore ovviamente io uso un filato sfumato quindi cambierà da sé il giro numero 17 che è l'ultimo giro sarà un giro ve lo farò vedere perché il giro di il bordo diciamo che io farò tra un motivo e l'altro se voi invece volete fare sempre questo motivo semplicemente continuate perché come vedete ripete sempre lo stesso quindi voi quando arrivate al giro numero 16 vedete in realtà è uguale al giro numero 13 il 16 è questo giro qua al giro numero 10 il numero 16 vedete è uguale al giro numero 10 che inizia con questo aumento le 3 catenelle e queste maglie qui quindi semplicemente dopo il giro numero 16 farete il giro numero 11 12 e così via ripetendolo sempre fino alla fine dello scialle quindi questo è il primo motivo io adesso lo finisco e vi faccio vedere quello che ottengo il triangolo che ottengo con questo schema e come fare a fare il giro proprio di chiusura se lo volete chiudere ripeto altrimenti potete continuare così ripeto altrimenti potete continuare così